Per Leonardo, la persona perfetta è uomo e donna assieme. Ma nella realtà facciamo di fronte a due modelli. Il primo modello fu l'Alisa Gerardini, detta Mona Lisa del Giocondo. Il secondo modello Gian Giacomo Caprotti, detto il Salai. Abbiamo fatto le sovrapposizioni di tutti i particolari dei dipinti dove Leonardo utilizza come modello il Salai con la Gioconda e alcuni particolari coincidono perfettamente. Quindi lui ha usato due modelli e poi avrà aggiunto qualcosa di ideale, di fantastico. Al prossimo episodio Grazie. Grazie.